C'è un motivo, non mi dà più tutto, dovrei chiamare un tazzo per farmi portare da me tutti i bambini, mi vanno male, capì, gli occhi, la faccia tutta gonfia, con una botte, un po' del presente, la botte. Guarda questa faccia, 64 incontri, guarda il naso. Dove è il naso? Questo naso non si è mai rotto, 64 incontri che l'hanno prestato, l'hanno preso, era borsi, strigliato, martellato, così, insomma, sono fatti, quelli mi davano sempre al naso, vai lì, mai rotto, vai lì, sì, non si è mai rotto. Tu che dici? Non sai ne cantare le ballate? Eh, hai esominato, non so fare altro. Cioè, di puoi venire dentro? No, vabbè. E andiamo, dai, c'ho le bestiolite, c'ho le bestiolite, degli animali validi, sei corretto, dai, dai. No, 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 devo andare. Sì, va bene, però no, non mi dà. Ida, stai ballatando. No, che buon dare. Senti, guarda che faccia, è una faccia che ci si confida, no? Sì, ora. Questa la potrebbero vedere anche su un franco buro. Guarda, guarda, andate. Oh, guarda. Grazie.